Nicola Noviello, Regional Sales Manager di Arecont Vision. Ci troviamo agli Mpop Days in casa Milestone. Qual è il vostro rapporto con Milestone e fino a che punto l'integrazione si può spingere? Il rapporto con Milestone non può che essere ottimo, anche perché come filosofia Arecont Vision noi non abbiamo un nostro software VMS per la gestione e la registrazione delle telecamere, quindi per noi è estremamente importante, anzi direi fondamentale, avere un partner, una partnership molto forte con costruttori di VMS, in particolare con quello che viene considerato il leader di mercato, quindi Milestone. E quindi ecco che questa nostra necessità ci porta a stringere rapporti molto molto stretti, quindi a livello quotidiano o in collaborazione con i partner che spesso sono comuni, sia a livello di distribuzione che anche a livello di sistema integrato, rivenditori ed installatori, e quindi spesso ci troviamo con Milestone stessa a fare il lavoro a tre. Quindi si va costruttore di telecamere, produttore di software, dall'utente finale insieme con il partner che poi si occupa dell'integrazione dei vari sistemi. Benissimo, tra l'altro parliamo di due realtà a livello globale, sia Arecont che Milestone, quindi probabilmente queste sinergie sono a livello pure globale. Assolutamente, qui siamo all'empop Italia, però la stessa situazione la possiamo ritrovare in sostanza in qualsiasi nazione dove sia presente sia Reconvision che Milestone, in particolare anche a livello di corporation, le due aziende sono molto molto vicine negli Stati Uniti e in Europa, chiaramente, dove Milestone ha l'edquarter, quindi questo va a creare benefici per tutte le varie country dove poi appunto ci sono dei legami molto stretti a tutti i livelli, sia dal top management fino alle persone sul campo che poi vanno a occuparsi dei progetti e di dare delle risposte, delle soluzioni ai partner che poi è quello che facciamo quotidianamente. Grazie.